Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi vedremo anche su iPhone, dopo averlo visto su Android e su Windows Phone come installare Whatsapp Questa idea mi è venuta, racconto anche questo piccolo aneddolo, poi partiamo subito Mi è venuta di raccontarvi di fare questi tutorial facili perché l'altro giorno mi trovavo a Troni della mia città E erano arrivate 4-5 persone, sono stato lì un'oretta perché stavo facendo un po' di, conosco anche qualche ragazzo lì Quindi stavo facendo un po' di chiacchiere, un po' di discorsi e praticamente sono arrivate circa 3-4-5 persone, non lo ricordo Comunque un bel numero, a chiedere come installare Whatsapp sul telefono, come installare Facebook, come fare questo, come fare quest'altro E chi aveva un Samsung, chi aveva un HTC, chi aveva un iPhone, quindi devo dire che ho capito che forse può essere importante Avere uno tutorial facili, questi tutorial facili proprio su internet, così si evita anche di perdere tempo per andare nei vari appunti centri commerciali o catene di elettronica Detto questo partiamo con Whatsapp Prima cosa da fare è andare sull'Apple Store per scaricare l'applicazione Attenzione, per accedere sull'Apple Store bisogna avere un Apple ID Come si fa a fare un Apple ID? Basta recarsi sul computer, che è la cosa più facile, all'indirizzo appleid.apple.com.it Poi metterò questo link direttamente nell'articolo che farò su mobileOS.it E praticamente in questo modo si deve andare a riempire questo form Quindi si va a inserire il nome e il cognome, si va a inserire il nostro indirizzo email Non so... Si risponde alle vanni di sicurezza, si risponde alle nascite, si mette l'indirizzo, le preferenze Si fa il commettamento del cacto e si mette poi, crea ID Apple In questo modo, creando il ID Apple, quando entriamo sull'Apple Store e ci viene chiesto Possiamo tranquillamente inserire la nostra mail, la nostra password e entrare nell'Apple ID Detto questo, basta allora a questo punto cercare Whatsapp Quindi Apple Store, si cerca Whatsapp e si clicca Qui avremo installa, io ora ho apri perché l'ho già installato Si cliccherà qui, si installerà Ok, ora qui, vabbè, praticamente c'è la possibilità di attivare le notifiche anche su iPhone Si va in impostazioni e seleziona Whatsapp per vedere le notifiche come banner, come avvisi O vabbè, insomma, questo non ci interessa Dicevo, si va ad installare Whatsapp e si va ad aprire Whatsapp Quando Whatsapp verrà aperto, ora voi vedete già la lista dei miei contatti In realtà però non vedrete tale lista subito Ma dovrete configurare l'applicazione Vi chiederà il vostro numero, quindi mettete il numero, quello che avete e datelo ok Vi arriverà poi sul telefono un messaggino Da un numero, questo è il numero di Whatsapp E ci dirà, saluti da Whatsapp, ecco il tuo codice Basterà inserire questo codice poi per andare ad accedere a Whatsapp E una volta che il codice sarà riconosciuto si arriverà in questa situazione E quindi si potrà andare tranquillamente e poi a fare un nuovo messaggio Quindi basterà cliccare su uno di questi contatti Vediamo un po' se... vabbè, non senza che ora ne prendiamo uno a casa Anzi, prendiamo il mio numero, anzi l'altro mio numero dovrebbe esserci Vediamo un po' Così vi faccio vedere anche... facciamo prima a cercare Vediamo un po' Tolgo altrimenti si vede il mio numero, perfetto Eccolo qua L'ho trovato Mio 3 Quindi sono entrato qui, entro e vedete posso tranquillamente scrivere E si dico ciao Invio e mi arriverà sul mio numero Poi posso naturalmente rispondere Posso inviare una faccina per esempio dall'altro mio numero Ecco qua che mi è arrivato Posso qui inviare foto Vado ad accedere alla fotocamera Qui posso andare invece a inviare messaggi vocali Insomma si può fare praticamente di tutto Quando si va a fare... scusatemi Quando si va a fare chiama Attenzione come Android non si andranno a utilizzare le chiamate su... Tramite Whatsapp ma si andranno a utilizzare direttamente il client di appunto di chiamata classico Il dealer classico di Android Beh direi quindi che questo è tutto per installare Iniziare a prendere a fare un po' di come dire Di prendere confidenza A diventare amici di Whatsapp Direi quindi che è tutto per questo tutorial Spero di essere stato il più chiaro possibile Ci vediamo alla prossima Cari amici mobileOS.it Ciao